Quando fu la diagnosi in luglio, già sei settimane prima, l'occhio sinistro, un tomo fu scarso fino a diventare cieco, completamente, un tomo. Ed era un tomo. All'ospedale mi hanno portato, vicino a Mannheim, non si chiama, la città, non so, io non ce l'ho mai conosciuto, non ce l'ho mai conosciuto. E lì mi hanno portato alla clinica degli occhi e mi hanno detto, va bene lei, ci diamo per il giorno di infusione di corti posti, di cortisone, si chiama. Noi vediamo che migliora, aveva tre giorni di cortisone e l'occhio non migliorava.